...of IOC, Commission for Culture and Olympic Heritage, the fixed president, ladies and gentlemen, professor Franco Ascani. Ladies and gentlemen, signori e signori, è per me un onore ricevere qui nella mia città i rappresentanti dei 116 paesi affiliati alla Federazione Internazionale Cinema Television Sportive. È una federazione che intende lo sport come un momento di cultura, a fixed culture through sport, attraverso i momenti di tolleranza, di pace, di amicizia, di lealtà e tutte le virtù e i valori che sono propri dallo sport. Questo è il mio saluto e il mio augurio, cinque giorni di festival, benvenuti da tutto il mondo. Grazie. Salute. Grazie ovviamente per le parole.